ok qua al posto di sono caduto alla fine al posto di fare quel click tu non salta tu non salta tu non salta ah io al posto di far così perchè aspetta io arriverei dopo qua con tipo qui vabbè tutto o di qua non lo so al posto di fare così no 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 troppo scavudo troppo difficile metti il ping in alto anzi no no ok Va bene, va bene, no, we're going to take check. 109. L'ho anche failata. C'è qualcosa che non è andata. Ma io non lo so, scusa, sbucare qua. Info 200. C'è sto piano qui in più, eri avanti di un blocco. Non ero avanti di un blocco, hai fatto tutto questo. Non ero avanti di un blocco, non ero avanti di un blocco. Così. Fammi un po' tracchese con l'aerrore. Fermo, 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 fermo. Ehm... Fatti la cellina, fatti la cellina. Ma se li fai tipo 33 si vede che ho fatto un mini, cioè. Quanta evitai? Ehm... Vieni, 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 vieni. Un che no, ne ho 25. Scendi. Ehm... Ehm... Ecco. Così evitiamo il 30. Guardi, evitiamo il 30. Ah vabbè, evitiamo il 22. Merda, sotto la scala! Figlio di puttana di un gioco. Ce la posso fare, no? Merda! Nooo! Sai quando fai il flick che salti trappi indietro e torni indietro dopo la scala? Che figura di merda. No, non andare avanti al massimo. Eh? Prova di andare al massimo, in avanti al massimo. Ma io vado già sempre in avanti al massimo. Va bene, va bene, mi metti le cose dove non voglio. Mi faccio un muro appena salti così non cadi. Il muro? Il muro, faccio un muro qua giù qua. Guarda. No, perchè mi attacca lì la piramide e mi dà fastidio. No, 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 no. No, 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 no.